Musica Cari amici di Avriai, ben ritrovati con la nostra nuova rubrica Most Wanted Cinema, in cui vi parliamo dei film più attesi del mese. Marzo promette interessanti novità. Partiamo, in ordine di uscita, da Room, il film di Lenny Abramson, un dramma teso e originale, che esplora il rapporto madre-figlio, in questo caso segnato da una particolare condizione di vita. Il piccolo Jack, di fatti, non ha mai visto il mondo esterno, conosce solo la stanza in cui è cresciuto e lo sconfinato amore della madre, interpretata da Brie Larson, che per questo ruolo ha appena ricevuto un Oscar. Il secondo film di cui parliamo è Legend, in cui Tom Hardy interpreta il dublice ruolo dei fratelli Reggie e Ronnie Cray, gemelli criminali della Swing in London degli anni 60. Il film del premio Oscar Brian Elgeland, pur non aggiungendo nulla di nuovo al panorama dei gangster movie, viene impreziosito proprio dalla doppia prova del protagonista. La cui fama dopo Mad Max sta crescendo sempre di più. Voltiamo pagina con un action movie d'altri tempi, ovvero Attacco al Potere 2. Gerard Butler torna in azione per proteggere il presidente degli Stati Uniti dai terroristi, ma l'azione si sposta da Washington a Londra, sotto attacco durante i misteriosi funerali del primo ministro britannico. Tanta azione e scene spettacolari per un film che riporta i fasti del macismo riganiano. The Divergent Series a Legend è il terzo capitolo dell'omonima saga Young Adult e vedete i suoi protagonisti Shailene Woodley, Theo James e Miles Teller. In questo terzo episodio tornano Triss, quattro e tutti gli altri protagonisti della serie di Divergent, alle prese con un mondo a loro sconosciuto, al di fuori della recinzione che circonda una distopica Chicago del futuro. Ave Cesare segna il grande ritorno dei fratelli Joen e Ethan Coen, con una pellicola complessa e originalissima che parla di cinema e amore per il cinema, raccontando il bizzarro dietro le quinte di un set della Hollywood d'epoca. A completare il tutto ci pensa un cast straordinario, comprendente George Clooney, Josh Brolin e Scarlett Johansson. L'amatissimo regista nipponico Mamoru Osoda presenta la sua ultima fatica, il bellissimo The Boy and the Beast, pellicola d'animazione a metà strada tra i mondi di Hayao Miyazaki e Neil Gaiman. Un ragazzino viene adottato da una creatura leggendaria, instaurando con lui un singolare rapporto padre-figlio che scuoterà sia il mondo degli umani che quello dei mostri. Il buffo e tenace Po, insieme alle sue amiche furie, tornano in Kufu Panda 3, atteso seguito Made in Dreamworks che proporrà una nuova incredibile avventura per il panda marziale e i suoi incredibili compagni, che dovranno affrontare la più grande sfida della loro vita. Promette molto bene anche il live action dedicato ad Aidy, l'amatissima pastorella nata dalla penna di Joanna Spiri e protagonista di un film che non sembra affatto far rimpiangere la mitica versione animata di Isao Takahata. Tra gli intepeti ritroviamo il noto Bruno Gunz nei panni del nonno. La Disney, invece, ci propone questo mese un'avventura epica interpretata da Ben Foster, Chris Pine ed Eric Bana. L'ultima tempesta racconta l'eroica impresa della Guardia Costiera americana, alle prese con una violenta tempesta e con uno dei più disastrosi naufragi di tutti i tempi, avvenuto a largo della East Coast a metà del secolo scorso. Chiudiamo la nostra carrellata col film in assoluto più atteso per il mese di marzo, e non solo. Parliamo infatti di Batman vs Superman Down of Justice, il cinefumetto DC Comics che vede contrapporsi due tra i più grandi supereroi di sempre in seguito alle vicende viste in l'uomo d'acciaio. Ricco di iconici personaggi ed effetti spettacolari, i film di Zack Snyder farà da apripista al film corale dedicato alla Justice League of America.